Il regno del drago, le guerre di re Aegon I Il lungo regno di re Aegon I Targaryen 1 PC 37 DC fu per lo più un periodo di pace, soprattutto nei suoi ultimi anni. Ma prima della pace del drago, come furono chiamate le ultime due decadi del suo governo dai maestri della cittadella, vennero le guerre del drago, l'ultima delle quali si rivelò il conflitto più crudele e sanguinoso mai combattuto nel continente occidentale fino ad allora. Sebbene si affermi che le guerre di conquista siano terminate quando Aegon fu incoronato e consacrato dall'Alto Septon nel tempio stellato di vecchia città, non tutto il continente occidentale si era ancora piegato al suo dominio. Nel morso i lord delle tre sorelle si erano approfittati del caos scatenato dalla conquista di Aegon per proclamarsi una nazione indipendente e incoronare Lady Marla di casa Sunderland come loro regina. Dal momento che la flotta Arryn era stata in gran parte distrutta durante la conquista, il re ordinò al suo protettore del nord, Torren Stark di Grande Inverno, di stroncare la ribellione degli uomini dell'arcipelago e un esercito del nord salpò da Porto Bianco con una flotta di galee mercenari di Braavos sotto il comando di Sir Warwick Manderly. La vista delle sue vele e l'improvvisa apparizione della regina Visenia su Vagar nei cieli sopra Sisterton prosciugò il coraggio degli uomini dell'arcipelago che deposero immediatamente la regina Marla a favore del fratello minore. Stefan Sunderland rinnovò la sua fedeltà a Nido dell'Aquila, in ginocchio al cospetto della regina Visenia e consegnò in ostaggio i figli come prova della sua buona condotta, uno perché fosse cresciuto presso i Manderly, l'altro con gli Arryn. Sua sorella, la regina Deposta, venne esiliata e imprigionata. Cinque anni dopo le fu tagliata la lingua ed ella trascorse gli anni che le restavano con le sorelle del silenzio occupandosi delle salme dei nobili. Ai confini opposti del continente occidentale le isole di ferro erano nel caos. Casa Hoare aveva governato sugli uomini di ferro da secoli unicamente per estinguersi in una sola notte quando Aegon aveva scatenato le fiamme di Balerion su Harrenhal. Sebbene Harren il Nero e i suoi figli fossero tutti periti tra quelle fiamme, Quorin Bolmark di Harlew, la cui Ava era stata una sorella minore del nonno di Harren, si proclamò legittimo erede del Nero Lignaggio e assunse il governo. Ma non tutti gli uomini di ferro accettarono tale rivendicazione. A Vecchia Wick, sotto le ossa di Nagga e il Serpente di Mare, i sacerdoti del Dio Abissale posero una corona di legno marino sulla testa di uno di loro, Lodos, il santone scalzo, che si proclamò figlio vivente del Dio Abissale e si vociferava fosse capace di operare miracoli. Altri pretendenti sorsero a grande Wick, Pyke e Orkmont e per oltre un anno i loro sostenitori si affrontarono per terra e per mare. Si racconta che le acque tra le isole fossero così ingombre di cadavri che apparvero centinaia di piovere attirate dal sangue. Aegon Targaryen pose fine alle contese, discese sulle isole nel 2 DC sul dorso di Valerion. Con lui giunsero le flotte da guerra di Arbor, Alto Giardino e Lannisport e persino alcune canoe provenienti dall'isola dell'Orso inviate da Torren Stark. Gli uomini di ferro, diminuiti di numero da un anno di guerra fratricida, opposero poca resistenza. Addirittura molti accolsero con giubilo l'arrivo dei draghi. Re Aegon uccise Quorin Voldmark con fuoco nero, ma concesse che il figlio, ancora infante, ne ereditasse terra e castello. A Vecchia Wick, Lodos, il re sacerdote, presunto figlio del dio abissale, pretese di evocare i kraken degli abissi, perché trascinassero a fondo le navi degli invasori. Quando ciò non avvenne, Lodos si riempì le casche di sassi e avanzò in mare, per consigliarmi con mio padre. A migliaia lo seguirono. Per anni i loro cadaveri, gonfi e divorati dai granchi, continuarono a depositarsi sulle spiagge di Vecchia Wick. A questo punto sorse la questione su chi dovesse governare le isole di ferro in nome del re. Fu proposto che gli uomini di ferro divenissero vassalli dei tulli di Delta delle Acque o dei Lannister di Castelgranito. Taluni insistettero perché fossero affidati a Grande Inverno. Aegon ascoltò ogni rivendicazione, ma alla fine deliberò di consentire agli uomini di ferro di scegliere il proprio lord supremo. Nessuno si stupì del fatto che la scelta ricadde su un membro della loro famiglia, Beacon Greyjoy, lord ammietitore di Pyke. Lord Beacon tributò il suo omaggio a re Aegon e il drago ripartì con la flotta. In ogni caso il controllo di Greyjoy si estendeva solamente alle isole di ferro. Egli rinunciò a ogni pretesa sulle terre che casa Hoare si era conquistata sulla terraferma. Aegon concesse il maniero in rovina di Harrenhal e i domini circostanti a Ser Quenton Coeris, suo maestro d'armi alla roccia del drago, ma stabilì che questi accettasse lord Edmund Tully di Delta delle Acque come lord supremo e sposasse una delle figlie di lord Tully. Con la sottomissione delle tre sorelle e delle isole di ferro, tutto il continente occidentale a sud della barriera era adesso dominato da Aegon Targaryen, con l'unica eccezione di Dorne. E fu proprio Dorne che da allora calamitò la sua attenzione. Dapprima Aegon tentò di conquistare i Dorniani con le parole, inviando al lancia del sole una delegazione di lord d'alto lignaggio, maestri e septon, per trattare con la principessa Meria Martell, soprannominata il rospo giallo di Dorne, e persuaderla dei vantaggi di un'unione fra i due regni. I negoziati si protrassero per gran parte dell'anno, senza alcun risultato. L'inizio della prima guerra dorniana è generalmente fissato nel 4 DC, quando Rhaenys Targaryen fece ritorno a Dorne. Quella volta, come aveva minacciato, venne con fuoco e sangue. Cavalcando Meraxes, la regina calò dal cielo limpido e incendiò a Plankytown. Fiamme ruggenti corsero di barca in barca, finché l'intera foce del sangue verde fu soffocata da relitti fumanti, e la colonna di fumo si poteva scorgere fino al lancia del sole. Gli abitanti della città galleggiante trovarono riparo sul fiume per sfuggire alle fiamme, per cui meno di cento perirono nell'attacco, e per lo più annegati anziché divorati dal fuoco di drago, ma il primo sangue era stato versato. Altrove, Oris Baratheon capitanava mille cavalieri scelti lungo la strada delle ossa, mentre Aegon in persona marciava attraverso il passo del principe alla testa di trentamila uomini, guidati da quasi duemila cavalieri e trecento lord e alfieri. Lord Arlan Tyrell, il protettore del sud, fu udito a fermare che avevano potere più che sufficiente per schiacciare qualunque esercito dorniano cercasse di opporsi a loro, persino senza Aegon e Baratheon. Non c'è alcun dubbio che avesse ragione, ma l'affermazione non fu mai comprovata, perché i dorniani non scesero mai in battaglia. Piuttosto proseguirono nella loro ritirata di fronte all'esercito di Aegon, bruciando i raccolti nei campi e avvelenando tutti i pozzi. Sulle montagne rosse, gli invasori trovarono le torri di guardia mutilate e abbandonate. Nei passi montani, l'avanguardia di Aegon, si ritrovò la via sbarrata da muraglie di pecore morte, tosate di tutto il vello e troppo marce per essere mangiate. Quando emersero dal passo del principe e si accinsero ad affrontare le sabbie di Dorne, l'esercito del re era già a corto di viveri e foraggio. A quel punto Aegon divise le sue forze, inviando lord Tyrell a sud contro Uthor Ullar, lord di Elholt, mentre egli stesso si dirigeva a est per assediare lord Fowler nella sua fortezza montana cielo alto. Era il secondo anno d'autunno e si credeva che l'inverno fosse alle porte. In tale stagione, speravano gli invasori, il calore del deserto sarebbe diminuito e le acque sarebbero aumentate. Tuttavia, mentre lord Tyrell marciava su Elholt, il sole di Dorne si rivelò implacabile. Sotto un tale calore gli uomini bevevano molto di più e ogni pozzo e oasi lungo il percorso dell'armata erano stati avvelenati. I cavalli iniziarono a perire, ogni giorno in numero sempre maggiore, seguiti dagli uomini sui loro dorsi. Gli orgogliosi cavalieri abbandonarono insegne, scudi, le armature stesse. Lord Tyrell perse un quarto degli uomini e quasi tutti i cavalli sulle sabbie dorniane e, quando infine giunse a Elholt, la trovò abbandonata. L'attacco di Oris Baratheon risultò di poco migliore. I cavalli si affannavano su pendii rocciosi dei passi montani, angusti e attorti, ma molti si impuntarono del tutto quando giunsero nei punti più erti del sentiero, dove i dorniani avevano inciso dei gradini sulle montagne. Dall'alto dei macigni travolsero gli uomini del primo cavaliere, a opera di difensori che gli uomini della tempesta non riuscivano mai a scorgere. Dove la strada delle ossa attraversava il fiume Will, mentre la colonna transitava sul ponte, gli arcieri dorniani comparvero all'improvviso, riversando su di loro una pioggia di migliaia di dardi. Quando Lord Oris ordinò ai propri uomini la ritirata, una valanga imponente tagliò loro la strada. Senza alcuna via d'uscita, né davanti né dietro, gli uomini della tempesta furono macellati come maiali chiusi in un recinto. Oris Baratheon venne risparmiato, insieme a una decina di altri Lord ritenuti degni di riscatti preziosi, ma furono fatti prigionieri da Will di Will, il selvaggio signore montano, noto come l'amante delle vedove. A re Aegon, di contro, arrise maggior successo. Marciando verso est, lungo i piedi delle colline, dove i ruscelli che scendevano dai rilievi fornivano acqua e le valli erano ricche di selvaggina, espugnò cielo alto in un assalto lampo e conquistò anche Ironwood dopo un breve assedio. Il Lord di Gran Sasso era morto di recente e il sovrintendente si arrese senza combattere. Nel lontano oriente, Lord Tolland, di collina fantasma, fece avanzare il suo campione per sfidare il re in singolar tenzone. Aegon accettò e uccise l'uomo, per rendersi conto solo in seguito che non si trattava del campione di Tolland, ma del suo guitto. Lord Tolland, invece, era sparito. E così fece anche Meria Martell, principessa di Dorne, quando re Aegon discese sul lancio del sole in groppa a Valerian, solo per scoprire poi che sua sorella Rhaenys lo aveva preceduto. Dopo aver bruciato Planky Town, la regina aveva conquistato Bosco dei Limoni, Bosco delle Macchie e Acqua Stagnante, accettando l'obbedienza tributata da vecchie e bambini, ma senza mai incontrare un vero e proprio nemico. Persino la città ombra che si estendeva fuori delle mura di lancio del sole era mezza deserta, e nessuno di coloro che erano rimasti ammetteva di sapere alcunché sul luogo in cui i lord e la principessa di Dorne si fossero potuti trovare. Il rospo giallo si è sciolto nella sabbia, comunicò la regina Rhaenys ad Aegon. Aegon rispose dichiarandosi vincitore. Nel grande palazzo di lancia del sole riunì i dignitari rimasti e comunicò loro che Dorne, a partire da quel momento, faceva parte del reame, che da allora in poi sarebbero stati suoi leali sudditi e che i precedenti signori dovevano essere considerati ribelli e fuorilegge. Furono offerte ricompense per le loro teste e in particolare per quella del rospo giallo, la principessa Meria Martel. Lord John Rosby fu proclamato castellano di lancia del sole e protettore delle sabbie, perché governasse su Dorne in nome del re. Sovrintendenti e castellani furono nominati per tutte le altre terre e feudi che il conquistatore aveva espugnato. Poi re Aegon e il suo esercito se ne andarono per la via da cui erano venuti, diretti a ovest, ai piedi delle colline e attraverso il passo del principe. Avevano raggiunto da poco approdo del re, quando, alle loro spalle, Dorne esplose. Lanceri dorniani sbucarono dal nulla, come finestre dopo una pioggia. Cielo alto, Ironwood, Gran Sasso e Collina Fantasma furono tutti liberati nel giro di quindici giorni e le guarnigioni rege passate a fil di spada. Ai castellani e sovrintendenti di Aegon fu invece concesso di morire solo dopo una lunga agonia. Si racconta che i lord di Dorne abbiano fatto una scommessa su chi fosse riuscito a tenere in vita più a lungo i prigionieri mentre li smembrava. Lord Rosby, castellano di lancia del sole e protettore delle sabbie, conobbe una fine più misericordiosa di molte altre. Dopo che i dorniani si erano riversati dalla città ombra per riprendersi il castello, fu legato mani e piedi, trascinato in cima alla torre della lancia e scaraventato giù da una finestra, niente meno che dalla principessa Samaria in persona. Ben presto rimase solo Lord Tyrell e il suo esercito, che Aegon si era lasciato alle spalle quando era ripartito. Si riteneva che il Helholt, un possente castello sul fiume Zolfo, godesse di una buona posizione per affrontare qualsiasi rivolta, ma il fiume era solforoso e i pesci pescati fecero ammalare gli uomini di alto giardino. Casa Kurgil di Sandstone non si era mai sottomessa e i lancieri Kurgil abbattevano le squadre di foraggiamento e le pattuglie di Tyrell ogni volta che si addentravano troppo a ovest. A est i Vaith di Vaith colpivano allo stesso modo. Quando la notizia della defenestrazione di lancia del sole raggiunse Helholt, Lord Tyrell radunò quel che restava delle sue forze e si dispose ad attraversare il deserto. Annunciò l'intenzione di espugnare Vaith, marciare verso est lungo il fiume, riprendere lancia del sole e la città ombra e punire gli assassini di Lord Rosby. Eppure, da qualche parte a est di Helholt, in mezzo alle sabbie rosse, Tyrell e il suo intero esercito scomparvero. Nessuno di loro fu mai più rivisto. Ma Aegon Targaryen non era uomo da accettare la sconfitta. Sebbene dopo il VI d.C. gli scontri siano degenerati in una serie infinita e sanguinose di atrocità, incursioni e rappresaglie, inframezzate da lunghi periodi d'acquiscienza. Una decina di brevi tregue, numerosi omicidi ed attentati. Nel VII d.C. Oris Barafeon e gli altri Lord, che erano stati fatti prigionieri lungo la strada delle ossa, furono riscattati e riconsegnati da prodo del re in cambio del loro peso in oro. Ma al ritorno si scoprì che l'amante delle vedove aveva mozzato a tutti la mano della spada perché non potessero più impognarne una contro d'Orne. Come ritorsione, re Aegon in persona piombò sulle fortezze montane dei Will, con Valerion, e ridusse mezza dozzina dei loro masti e torri di guardia ad ammassi di pietra fusa. I Will riuscirono comunque a rifugiarsi nelle caverne e gallerie scavate nelle viscere delle loro montagne, e l'amante delle vedove visse altri venti anni. Nell' VIII d.C., un anno molto secco, predatori dorniani attraversarono il mare di Dorne su navi fornite da un re corsaro delle Stepstones, razziando mezza dozzina di borghi e villaggi lungo la costa meridionale di Capofurore e appiccando incendi che si propagarono per metà del bosco delle piogge. Fuoco per fuoco, si tramanda che abbia sentenziato la principessa Meria. A tale provocazione i Targaryen non potevano non replicare. Più tardi, in quello stesso anno, Visenia Targaryen apparve nei cieli di Dorne e le fiamme di Vagar furono scatenate sul lancio del sole, Bosco dei Limoni, Collina Fantasma e Gran Sasso. Nel 9 d.C. Visenia tornò ancora, stavolta con Egon in persona, che volava al suo fianco, e Sandstone, Vaith, Hellhole bruciarono tutti. La risposta di Dorne giunse all'anno successivo, quando Lord Fowler guidò un esercito attraverso il passo del principe e penetrò nell'altopiano, muovendosi con tale rapidità da incendiare una decina di villaggi ed espugnare il grande castello di confine chiamato Canto Notturno, prima che i Lord, delle terre basse, si accorgessero che il nemico stava piombando loro addosso. Quando la notizia dell'attacco raggiunse a vecchia città, Lord Hightower inviò il figlio Adam con un forte contingente per riconquistare Canto Notturno, ma i dorniani avevano previsto esattamente tale mossa. Un secondo esercito dorniano, comandato da Sir Geoffrey Dane, piombò da stelle al tramonto e attaccò la città. Le mura di vecchia città si dimostrarono troppo solide perché i dorniani riuscissero a espugnarle, ma Dane incendiò i campi, fattorie e villaggi nel raggio di venti leghe intorno alla città, e uccise il figlio minore di Lord Hightower, Germon, quando il ragazzo guidò una sortita contro di lui. Sir Adam Hightower raggiunse Canto Notturno solo per scoprire che Lord Fowler aveva incendiato il castello e passato la guarnigione a fil di spada. Lord Cairon, sua moglie e i bambini erano stati riportati a Dorne come prigionieri. Anziché inseguirlo, Sir Adam ritornò immediatamente a vecchia città, ma anche Sir Geoffrey e il suo esercito erano nuovamente spariti fra le montagne. Il vecchio Lord Manfred Hightower morì poco dopo. Sir Adam succedette al padre come Lord di Hightower, mentre tutta vecchia città gridava vendetta. Re Aegon volò con Valerion ad Alto Giardino per consigliarsi col suo protettore del sud, ma Theo Tyrell, il giovane Lord, era estremamente riluttante all'idea di prendere in considerazione una nuova invasione di Dorne, dopo quello che era toccato in sorte a suo padre. Ancora una volta il re scatenò i suoi draghi contro Dorne. Aegon stesso piombò su cielo alto giurando di trasformare la dimora dei Flower in una seconda Harrenhal. Visenia e Vagar portarono fuoco e sangue su stelle al tramonto. Erenis e Meraxes tornarono ancora una volta a Hellhole dove avvenne la tragedia. I draghi Targaryen, cresciuti e addestrati in battaglia, avevano sempre volato fra tempeste di lance e frecce in molte occasioni, subendo ben pochi danni. Le scaglie di un drago adulto sono più dure dell'acciaio e perfino le frecce spesso li scalfiscono appena, riuscendo solo a far infuriare quelle bestie gigantesche. Eppure, mentre Meraxes volava sopra Hellhole, un difensore sulla torre più alta del castello azionò uno scorpione e il dardo di ferro, lungo quasi un metro, colpì il drago femmina della regina, dritto nell'occhio destro. Meraxes non morì sul colpo, ma si schiantò a terra agonizzante, distruggendo la torre e una vasta parte della cinta muraria di Hellhole nel corso dei suoi ultimi spasmi. Se Rhaenys Targaryen sia sopravvissuta al suo drago, resta materia controversa. Certuni sostengono che sia stata sbalzata e che abbia trovato la morte cadendo a terra, altri che sia stata schiacciata da Meraxes nel cortile del castello. Secondo alcune versioni, la regina sopravvisse alla caduta del suo drago, solo per morire lentamente a causa delle torture subite nelle segrete degli Haller. Le autentiche circostanze della sua scomparsa probabilmente non saranno mai conosciute, ma Rhaenys Targaryen, sorella e consorte di re Aegon I, peria Hellholt nel decimo anno dopo la conquista. I due anni successivi furono noti come la furia del drago. Ogni castello di Dorne venne bruciato tre volte con Valerion e Vagar che continuavano a tornare giorno dopo giorno. In alcuni punti la sabbia intorno a Hellholt era stata fusa fino a farsi vetro, tanto avvamparono le fiamme feroci di Valerion. I lord dorniani furono costretti a nascondersi, ma neppure questo garantì loro la salvezza. Lord Fowler, Lord Vaith, Lord Tolland e i quattro lord successivi di Hellholt furono tutti assassinati, uno dopo l'altro, poiché il trono di spade aveva offerto una ricompensa dal lord in oro per la testa di ciascun aristocratico dorniano. Tuttavia solo due degli assassini sopravvissero per riscuotere le loro ricompense e i dorniani misero in atto le loro rappresaglie, ripagando sangue con sangue. Lord Connington, diposatoio del grifone, fu ucciso mentre era a caccia. Lord Mertens, di Bosco delle Brume, venne abbelenato insieme a tutta la sua casata da una partita di vino dorniano. Lord Fel fu soffocato in un bordello di approdo del re. E neppure i Targaryen ne furono esenti. Il re venne aggredito tre volte e in due occasioni avrebbe di sicuro perso la vita se non fosse stato per la sua guardia. La regina Visenia fu assalita una notte ad approdo del re. Due delle sue guardie furono assassinate prima che Visenia stessa abbattesse l'ultimo sicario con sorella oscura. L'azione più infame di quel periodo sanguinario si verificò nel 12 dc, quando Will di Will, l'amante delle vedove, si presentò senza essere invitato alle nozze di Sir John Cafferen, erede di Fownton, con Alice O'Ockart, figlio del Lord di Vecchia Quercia. Ammessi da un ingresso secondario con la complicità di un servo traditore, gli aggressori Will uccisero Lord O'Ockart e la maggior parte degli invitati, poi fecero assistere la sposa novella alla castrazione di suo marito. Quindi stuprarono a turno Lady Alice e le sue damigelle, per poi portarle via con sé e venderle ad uno schiavista di Myr. A quel punto Dorne era stata ridotta a un deserto fumante, divorato dalla fame, dalla pestilenza e dalla miseria. Una terra desolata, è così che la chiamavano i mercanti delle città libere, eppure casa Martell restava ancora mai inchinata, mai piegata, mai spezzata, come proclamava il suo motto. Ribadì che Merry a Martell avrebbe preferito vedere il suo intero popolo morto piuttosto che schiavo di casa Targaryen. Visenia rispose che lei e suo fratello sarebbero stati felici di accontentare la principessa. Gli anni e la malattia, finalmente, procurarono ciò che draghi ed eserciti erano stati incapaci di conquistare. Nel 13 DC, Merry a Martell, il rospo giallo di Dorne, morì a letto, mentre copulava con uno stallone, sostennero accanitamente i suoi avversari. Suo figlio Naimor le succedette come lord di Lancia del Sole e principe di Dorne. Sessant'anni di età, con una salute già precaria, non aveva alcun desiderio di ulteriori stragi. Diede inizio al suo regno inviando una delegazione ad approdo del re, per consegnare il cranio del drago Meraxes e negoziare con re Egon i termini della pace. A guidare l'ambasciata era la sua erede in persona, la figlia Derya. Ad approdo del re, la proposta di pace del principe Naimor incontrò forte opposizione. La regina Visenia era duramente contraria. Niente pace, senza sottomissione, dichiarò, e i suoi amici nel concilio fecero eco a tali parole. Oris Baratheon, che nei suoi ultimi anni si era fatto curvo e arcigno, proposa di rimandare la principessa Derya a suo padre con la mano mozzata. Lord Oakarth inviò un corvo messaggero, suggerendo che la fanciulla dorniana fosse venduta al bordello più sordido di approdo del re, finché ogni straccione in città si sia sollazzato con lei. Egon Tarkarian respinse tutte queste proposte. La principessa Derya era venuta come messaggera sotto una bandiera di pace e giurò che sotto il suo tetto non avrebbe patito alcun male. Il re era stanco di guerra. Tutti ne convenivano, ma concedere la pace ai dorniani senza sottomissione sarebbe equivalso ad ammettere che la sua amata sorella Renis era morta in vano e che tutto il sangue e ogni morte non avevano portato a niente. I lord del concilio ristretto, inoltre, lo misero in guardia circa il fatto che una pace a tali condizioni sarebbe potuta apparire un segno di e avrebbe potuto incoraggiare nuove rivolte, che a quel punto sarebbe stato necessario reprimere. Egon sapeva che l'alto piano, le terre della tempesta e le terre basse avevano sofferto intensamente durante gli scontri e non avrebbero perdonato né dimenticato. Persino ad approdo del re, il re non osava permettere ai dorniani di uscire da forte Egon senza una solida scorta, per paura che il popolo minuto della città li facesse a pezzi. Per tutte queste ragioni, come scrisse in seguito Gran Maestro Lugan, il re fu sul punto di rifiutare la proposta dorniana e continuare la guerra. Fu allora che la principessa Deria si presentò al re con una lettera sigillata da parte di suo padre. Solo per i tuoi occhi, vostra grazia. Re Egon lesse le parole di Naimor in mezzo alla corte, impassibile e in assoluto silenzio, mentre sedeva sul trono di spade. Si narra che, quando infine si alzò, le mani gocciolassero sangue. Bruciò la lettera e non ne parlò mai più, ma quella notte montò su Balerion e volò via, su Golfo delle Acque Nere, fino alla montagna fumante della Roccia del Drago. Quando tornò il mattino seguente, Aegon Targaryen accettò i termini proposti da Naimor. Poco dopo firmò un trattato di pace perpetua con Dorne. Ancora oggi nessuno sa dire con certezza quale fosse il contenuto della lettera di Deria. Alcuni sostengono che si trattasse di una semplice supplica, da padre a padre, parole sincere che toccarono il cuore di Aegon. Altri insistono che contenesse una lista di tutti i lord e nobili cavalieri che avevano perso la vita durante la guerra. Taluni Septon arrivarono persino ad insinuare che la missiva fosse stregata e che fosse stata scritta dal rospo giallo prima di morire, con il sangue della regina Renis contenuto in una fiala, per cui il re sarebbe stato incapace di resistere al suo sortilegio malefico. Gran maestro Clegg, che giunse ad approdo del re vent'anni dopo, concluse che Dorne non aveva più la forza di combattere. Spinto dalla disperazione, secondo Clegg, il principe Nymore potrebbe aver minacciato che, se la sua pace fosse stata rifiutata, avrebbe ingaggiato gli uomini senza faccia di Braavos per assassinare il figlio ed erede di re Aegon, Enis, nato dalla regina Renis, che all'epoca aveva solo sei anni. Forse è così, ma nessuno lo saprà mai veramente. In questo modo ebbe fine la prima guerra dorniana, 4-13 d.C. Il rospo giallo di Dorne aveva ottenuto ciò che era stato impossibile a Harren il Nero, ai due re e a Torren Stark. Aveva sconfitto Aegon Targaryen e i suoi draghi. Eppure, a nord delle montagne rosse, le sue strategie le valsero solo disprezzo. Coraggio dorniano divenne un modo beffardo di riferirsi alla codardia presso i lord e i cavalieri del regno di Aegon. Minacciato, il rospo salta nella tana, scrisse un cronista. Un altro sentenziò che Meria combatté come una donna, con menzogne, inganno e stregoneria. La vittoria dorniana, se fu effettivamente tale, venne giudicata disonorevole e, sopravvissuti allo scontro, e i figli e i fratelli dei caduti, si promisero che si sarebbe presentata un'altra occasione e con essa la resa dei conti. La vendetta avrebbe dovuto attendere un'altra generazione e l'ascesa di un altro monarca, più giovane e sanguinario. E, nonostante rimanesse assiso sul tronno di spade per altri ventiquattro anni, il conflitto con Dorne fu l'ultima guerra di Aegon il conquistatore.